esercizio numero 1 elevazione verticale impugnate due manubri e posizionatevi con i piedi alla larghezza delle spalle sollevate poi i pesetti sopra la testa i palmi delle mani sono sempre rivolti l'uno verso l'alto piegate i gomiti per abbassare i manubri dietro la testa finché non siano perpendicolari al pavimento attendete un secondo prima di estendere le braccia per ritornare poi alla posizione di partenza fate attenzione il gomito deve rimanere fermo per tutta la durata del movimento eseguite quattro serie di 16 ripetizioni esercizio numero 2 french press sdraiatevi al suolo con un manubrio in ogni mano allungate le braccia verticalmente con i palmi delle mani che si guardano l'un l'altro mantenendo i gomiti alla stessa posizione abbassate lentamente i manubri fino a quando le braccia non siano completamente flesse per poi ritornare sempre dolcemente nella posizione originale eseguite quattro serie di 12 ripetizioni esercizio numero 3 dips su panca posizionatevi con i palmi delle mani sul bordo di un supporto con le mani divaricate alla larghezza delle spalle e le braccia distese il corpo deve trovarsi sempre vicino al supporto e le gambe allungate o piegate in base al proprio livello se siete principianti vi consiglio di piegare leggermente le gambe scendete sulle braccia fino a quando i gomiti formano un angolo di 90 gradi poi spingete forte sulle mani per ritornare alla posizione iniziale assicurandovi sempre di non allontanarvi dalla panca durante tutto il movimento eseguite quattro serie di 10 ripetizioni esercizio numero 4 kickback posizionatevi in piedi con un manubrio in ogni mano in seguito inclinatevi leggermente in avanti mantenendo un arco naturale con la parte bassa della schiena incollate i gomiti lungo il corpo con gli avambracci perpendicolari al pavimento senza muovere i gomiti allungate poi le braccia al massimo e mantenete la posizione per un secondo prima di ritornare sempre lentamente alla posizione iniziale fate attenzione l'errore più comune è quello di muovere i gomiti durante l'esecuzione eseguite quattro serie di 16 ripetizioni potete fare questi esercizi anche con due bottiglie d'acqua e una sedia se non avete manubri o panca eseguite questa sessione almeno due volte alla settimana aumentando il carico man mano che le sessioni procedono non mollate mi raccomando e buon allenamento a tutti a presto